Buona giornata! Oggi vi porterò in questa speciale classifica dei 5 pensieri del giorno che vi sono piaciuti di più. Ma prima fatemi dire un grandissimo grazie, grazie di cuore, grazie per tutti gli apprezzamenti che ho ricevuto in questa prima stagione dei pensieri del giorno. Ed è proprio per questo che ho deciso di fare una seconda stagione, che comincerà la prossima settimana. Quindi mi raccomando, state sempre sintonizzati sul canale Felicità e Pace. E mi raccomando, se volete far parte di questa grande famiglia, non costa niente. Basta semplicemente cliccare sul pulsante Iscriviti, qui sotto al video, e magia apparirà sul vostro cellulare, se avete installato l'app di YouTube, la notifica che ho appena pubblicato, un nuovo pensiero del giorno. Oppure anche altri video, non sono pensieri del giorno, quindi campane tibetane e più, 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 chi più ne ha più ne metta. Ma è ancora, se tornino più importante, dirvi grazie. Un grazie veramente di cuore. Veramente, cioè, mi avete reso felice. E spero anch'io un pochino di avervi reso un po' più felice. E' per questo che la prossima stagione avrà alcune migliorie, alcuni miglioramenti. La prima, per esempio, sarà avere, adottare un formato orizzontale. Questo per evitare di vedere solo il mio faccione, perché per quanto possa essere bello, anche no, anche basta, ne abbiamo già abbastanza. Ma per farvi godere meglio le location dove sono stato a girare i pensieri del giorno, perché sono veramente, veramente uniche. Quindi vi esorto a scoprire tutte le novità, ma non indugiamo oltre e partiamo subito con i 5 pensieri del giorno, che vi sono piaciuti di più. Grazie e godetevi questo bellissimo viaggio. Buona giornata. Non credo alle persone che mi ripetono quanto io sia per loro importante o fondamentale. Credo alle persone che, in silenzio, scelgono ogni giorno di non andarsene, nonostante i miei difetti. Ecco, circondatevi di queste persone, perché sono le persone che vogliono entrare in contatto con voi, perché vi vogliono bene, perché vogliono stare insieme a voi. Allora, quelle persone sono le persone a cui chiedere e domandare per una cosa importante della vostra vita. Quindi, mi raccomando, circondatevi di quelle persone. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti 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 Shanti. Buona giornata. Buona giornata. Troppe persone non vivono i loro sogni perché vivono le loro paure. Les Brown. Ecco, oggi vi esorto a non farvi fregare dalle vostre paure. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, la paura è importante, ma non vi fate fermare da questa paura, perché altrimenti non partirete mai, non aspettate di conoscere tutte le variabili di un problema. Il problema prima o poi si risolverà da solo, quindi poi diventerà parte della tua zona di comfort. Ma ora forse ti fa paura e è proprio quella paura che ti dirà che quella strada è la strada giusta. Vai e non fermarti. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti 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 Shanti. Buona giornata. Buona giornata. Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Impara a gioire delle piccole cose. Le piccole cose saranno quelle che faranno la tua vita felice. Solo così potrai veramente gioire tutti i giorni della tua vita. e non ti preoccuperai più di gioire solo delle grosse cose, perché in fondo le piccole cose sono molto di più. Quindi impara a gioire delle piccole cose. Buona giornata. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata. Non cercare per forza qualcuno che ti completi. Il primo passo per essere felici è essere completi da soli. Questo ce lo ricorda Arthur Schopenhauer. E anche io vi dico, non cercate per forza qualcuno per essere completi prima di essere completi da soli. Perché nessuno vorrà stare con voi se neanche voi vorrete stare con voi stessi. Quindi prima trovate la pace e la felicità nel vostro cuore, principalmente la pace, e poi potete trovare qualcuno che vi renda felici. Se volete possiamo fare questo percorso insieme. Seguitemi pure qui sul canale. Felicità e pace. Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata. Buona giornata. Sii paziente e procedi con fiducia. Ogni cosa ti arriverà al momento giusto. E non aver paura di seguire i tuoi sogni, anche se sono lontani dal tuo, dalla tua zona di comfort, dal tuo essere oggi. Sii paziente, procedi con fiducia. Ogni cosa ti arriverà al momento giusto. Non smettere mai di credere nella bontà dei tuoi sogni. Il tuo cuore ti guiderà a fare le scelte giuste. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti 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 Shanti. Buona giornata. Ed eccoci finalmente ai saluti. Vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, metti un mi piace. Condividi pure questo video con, e anche tutti quelli che seguiranno, dei pensieri del giorno, sulle tue pagine social, con i tuoi amici, tramite Whatsapp. Come ti pare? Così aiuterai a far crescere questo canale, a farmi realizzare pensieri del giorno sempre più belli, sempre più affascinanti, in location sempre più fantastiche. Allora io non faccio altro che salutarti. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti 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 Shanti. Buona giornata.